Le 9.36 minuti, ben ritrovati, ancora in diretta con Primo Canale anche in questo sabato 15 marzo. Tanti temi di attualità, tra questi anche quelli del lavoro e del commercio. Commercio che sempre di più in questi ultimi anni ha sofferto, come era ovvio che fosse, una crisi che ha colpito anche questo settore, non soltanto le piccole botteghe, i piccoli negozi, ma anche quei grandi negozi spesso presenti in città non soltanto italiane, ma magari europee e mondiali, che sembravano in qualche modo più al riparo da certe dinamiche. Invece anche loro soffrono. È il caso ad esempio di H&M, un negozio molto famoso nel centro di Genova, che sembrava dover chiudere tutta colpa dell'affitto troppo caro in un momento in cui le vendite evidentemente non sono all'altezza degli anni passati. Ne parliamo con Luca Maestripieri, segretario regionale CISL. Buongiorno. Perché la notizia di questi giorni è che forse c'è una speranza, forse quel negozio potrebbe non chiudere. C'è un tavolo aperto, ci aggiorna sulla situazione? Sì, naturalmente, questo è l'auspicio che chiaramente non chiuda quel negozio, non perché ci piace particolarmente quell'insegna. A noi le aziende piacciono tutte allo stesso modo, ma perché pensiamo che se un'azienda di questo tipo dovesse sparire da quel contesto, ricordo che è dislocata nel cuore dello shopping cittadino, proprio in via 20 settembre, le persone, l'occupazione, che poi è la cosa che a noi sta a cuore, verrebbe immediatamente espulsa. Si tratta di 65 operatori, in gran parte giovani, in gran parte donne, quindi con poche speranze di essere ricollocate, diciamo, almeno nell'immediato. Per cui è chiaro che c'è tutto l'impegno da parte di queste organizzazioni sindacali di provare a tutelare l'occupazione. È chiaro che anche il commercio rappresenta per il sindacato, ma in maniera più importante per la città e per il suo tessuto economico, un vero e proprio giacimento occupazionale, non solo per i numeri dell'occupazione che risiede in questo settore, ma anche per la qualità dell'occupazione che esiste, le professionalità. Molto spesso, come dire, molti teorizzavano, hanno teorizzato che si tratta di un'occupazione secondaria, si è detto tante volte che il commercio si è irrobustito in termini di quantità occupazionale perché faceva da camera di compensazione per altri settori che in qualche maniera perdevano occupazione. Oggi il settore del commercio è, se mettiamo insieme il polverizzato e la grande distribuzione, li sommiamo tutti questi addetti, è la più grande azienda di Genova e della Liguria, così come il contributo che questo settore dà al PIL cittadino e regionale è assolutamente ragguardevole. Ci fermiamo sul caso specifico di H&M perché c'è una trattativa sostanzialmente sull'affitto, cioè il tema che riguarda poi tanti negozi è quello di affitti troppo cari rispetto al mercato attuale. È un tema che non riguarda soltanto questa catena, ma tanti anche a volte piccoli esercizi che si trovano a far fronte a cifre molto alte, perché ovviamente affittare le mura costa, in un momento in cui però gli affari non seguono. Assolutamente sì, sul caso di H&M, per fare una breve sintesi dello stato dell'arte, le organizzazioni sindacali di categoria hanno avuto la comunicazione, diciamo l'annuncio dell'interruzione del ramo dell'affitto e quindi dell'imminente chiusura del punto di vendita di via 20 a novembre del 2013, motivando appunto questa cosa, come diceva lei, con un affitto troppo alto che non consentiva di proseguire l'attività commerciale, diciamo in un regime di sostenibilità economica, a fronte anche della congiuntura che lei prima ricordava, i consumi eccetera. Nei giorni successivi è stata aperta formalmente una procedura di messa in mobilità di tutti e 65 gli operatori del negozio e da lì poi si è sviluppata la trattativa sindacale, gli incontri congiunti tra aziende e sindacato per vedere ed individuare le soluzioni idonee per rendere meno impattante, diciamo così, il dramma occupazionale che si andava profilando per queste persone. Nella discussione si è ipotizzato una soluzione di trasferimento per una parte di dipendenti, chiaramente anche questa è un'ipotesi alquanto complicata perché non esistono altri negozi sulla piazza genovese, si è parlato come quasi sempre avviene di ricorso agli ammortizzatori sociali, di cassa integrazione straordinaria, ma poi come sindacato man mano che la discussione andava avanti abbiamo compreso che occorreva puntare davvero sulla rimessa in moto del dialogo tra le due parti per salvaguardare l'occupazione. In questo momento c'è una speranza concreta di salvare quel punto? È stato avviato un tavolo di concertazione, una parola forse un po' fuori modo, un tavolo diciamo con la presenza di tutte le parti, coordinato dal comune attraverso il suo assessore competente, con la presenza delle due aziende, ovviamente con la presenza del sindacato e a quel tavolo abbiamo verificato due cose molto importanti. La prima è che queste aziende di fatto non si parlavano da mesi e il recesso era stato dato addirittura nel 2012. Quindi non c'è stato neanche un tentativo di mediazione finora da parte delle due... Ma diciamo che dal momento in cui si è insediato questo tavolo finalmente è ripreso quantomeno un contatto tra le due parti e questo non dico che fa ben sperare però è sicuramente un tassello importante. Se non c'è di sicuro non si fa nulla. Fin troppo, sava sandir. L'altro punto importante che abbiamo verificato anche a meno dalle dichiarazioni della Fashion Rent che è appunto l'azienda proprietaria del locale che c'è una disponibilità a ridurre ad abbattere in maniera anche significativa il canone d'affitto. Ora da qui a dire che abbiamo risolto il problema semplicemente per una dichiarazione di intenti da parte dell'azienda, purtroppo ce ne passa. Diciamo che è un primo passo, tutto questo mentre in realtà altre realtà hanno lasciato già il centro di Genova, anche in realtà importanti se non sbaglio. Sì, ma molte aziende stanno anche ridimensionando gli organici, cioè è chiaro che ogni azienda cerca di far fronte a una situazione molto complicata di stand by dei consumi con le soluzioni che possono essere adottate. Ci sono tantissimi colli di bottiglia che in qualche modo frenano il commercio. certo i consumi vanno rivitalizzati attraverso soprattutto la leva fiscale, come sindacato lo diciamo da tempo, non solo chiaramente per il commercio ma per tutte le attività economiche. C'è un problema di credit crunch, cioè di inasprimento dei vincoli, delle condizioni di credito per le piccole, piccolissime imprese che sono la grande parte di questo mondo, che solo le banche si ostinano a negare e ci sono appunto anche problemi di affitto che però vanno verificati caso per caso. Penso a Via 20 Settembre, visto che di questo parliamo, non c'è anche un problema di riqualificazione della città, perché Via 20 Settembre in alcune parti c'è un lavoro molto forte di riqualificazione, in altre è un buco nero a livello cittadino, cioè non c'è anche questo. Si parla da anni di pedonalizzarla, si parlava addirittura delle aiuole in Via 20, ci sono cantieri che durano ormai fermi perché le aziende sono fallite da anni, non servirebbe però anche un intervento di riqualificazione del territorio anche per aiutare le aziende, su questo forse si potrebbe lavorare. Sarebbe assolutamente, è assolutamente indispensabile, il problema è che c'è uno scarto enorme tra quello che si dovrebbe fare, gli annunci che vengono fatti, anche magari corredati di progetti e quello che poi effettivamente si fa. Se la politica vedrà, non lo sappiamo ancora, un nuovo corso, il nuovo corso sarà appunto quello di ridurre il margine appunto tra le cose che si annunciano e le cose che poi effettivamente si fanno. Questa città ha una sua vocazione sicuramente industriale, sicuramente legata al porto, ma anche fortemente legata al terziario e in particolar modo al turismo, che è un altro tassello fondamentale che va sviluppato non solo però con le dichiarazioni di intenti, anche con le azioni. Faccio un esempio, siamo a marzo del 2014, nel 2015 ci sarà un evento, l'Expo, che porterà nel nostro paese a 140 chilometri di distanza da qui a Milano 21 milioni di visitatori dal nostro paese, ma anche dal resto del mondo. Mi pare che mentre gli altri si muovono per intercettare questa massa di persone che giungeranno nel nostro paese, la regione, la città sia silente su questo punto. Forse sarà solo una sensazione, però credo che occorra davvero attrezzarsi per intercettare gran parte di quel flusso per chi vorrà in qualche modo affacciarsi al mare. È chiaro che la destinazione più immediata sarà la nostra città. È chiaro, lo sbocco al mare di Milano e Genova, insomma lo sappiamo. Senta, parliamo anche di un'altra vicenda, quella della centrale dell'Ate, lei l'ha seguita, mi raccontava molto da vicino, un'altra vicenda che colpisce da un lato forse ancora di più, perché c'era una realtà che funzionava, una realtà storica che tutti i genovesi, i liguri conoscevano, sappiamo, insomma abbiamo seguito la vicenda e adesso lì rimane il vuoto sostanzialmente, ci dovevano essere nuovi insediamenti produttivi, si era parlato di un centro commerciale che invece era stato contestato. Adesso lì cosa ci sarà? Probabilmente niente e questo è un altro problema. Noi abbiamo fatto tantissime docce fredde in quest'anno e mezzo, dal momento in cui Parmalat Lactalis ha annunciato la chiusura di quel sito. Nei mesi successivi, oltre ad affrontare la trattativa con Parmalat per gli ammortizzatori sociali per dare copertura a queste persone, le ricollocazioni, eccetera. Abbiamo fatto veramente tantissime docce fredde, si è parlato di cordate, cordatine legate al latte, non legate al latte, fino ad arrivare sostanzialmente ad oggi, con un elemento però di novità, almeno fino a 48 ore fa, che al di là delle cordate fantasma dei mesi scorsi, qua pare, noi poi chiaramente come sindacato non possiamo fare atti di fede al buio, però pare che ci fosse una cordata di imprenditori veri, nostrani, patrocinati da, passatemi il termine, da Confindustria e su cui anche Regione e Comune avevano puntato molto, avevano dato il loro deciso appoggio per la reindustrializzazione di quel sito, un gruppo, un pool di imprenditori che decidono in questo momento di investire dei soldi e di investire sulla loro attività di impresa mettendosi insieme. Mi perdoni, lei mi ha detto prima, non ci sarà nulla, adesso mi dice che c'è una cordata. Eh, la cordata c'è, il problema... C'è la cordata, ma cosa manca? Se la cordata manca l'accordo con la proprietà, perché è evidente che per andare a fare quel tipo di lavoro, che poi noi non sappiamo quale sarà, non conosciamo il nome degli imprenditori, ma sappiamo la serietà di chi l'ha promossa, questo è giusto riconoscerlo, ma nel momento in cui non c'è un accordo commerciale di compravendita tra chi detiene la proprietà del sito e chi lo vuole acquisire, è del tutto evidente che non sarà possibile portare nuovo lavoro e reindustrializzare quel sito. Cioè lei mi sta dicendo che in questo momento c'è chi sarebbe disposto a investire, avrebbe un piano industriale, di cui i dettagli al momento non sono noti, ma insomma c'è qualcosa e dall'altra però la proprietà, chi è la proprietà? La proprietà è Parmalat, Lactalis. E preferisce lasciare il vuoto. Ma questo è l'altro punto assolutamente inspiegabile, perché credo che anche Parmalat abbia interesse a realizzare, chiaramente, non lasciare lì quel sito, certo, non è certo un'aziendina familiare che ha bisogno di capitalizzarsi vendendo, però è del tutto evidente che, a meno che non ci abbiano... Ha preferito lasciare a casa, avrebbe da dire, gli operai di un'azienda che funzionava pur di ottimizzare, quindi vuol dire che sono attenti a... Sono molto attenti, hanno commesso un errore tragico anche per loro nel buttare a mare un marchio, un'esperienza, una realtà così importante come quella della centrale del latte di Genova. Genova speravamo che potessero in qualche modo lenire le ferite che hanno provocato a questa città. Invece al momento non ci sentono. Non ci sentono, ma queste sono le dichiarazioni che noi abbiamo letto sui giornali, perché poi noi come sindacato siamo stati coinvolti in questa cosa, ma non abbiamo avuto informazione nel merito. Noi non sappiamo a quanta monta l'offerta fatta, sappiamo che c'è stata un'offerta, perché l'ha confermato anche Parmalat, solo che anche su questo sarà opportuno fare un'operazione verità, perché una parte dice che è assolutamente fuori mercato, l'altra parte dice che è l'offerta assolutamente congrua, aspettiamo di capire, credo che sia dovuto a questo punto alla città, quali sono i contorni e i dettagli di questa offerta. Ma non per scannarsi e fare delle dietrologie, potevamo fare il centro commerciale, allora abbiamo scherzato, eccetera, ma per capire da che punto possiamo ripartire per dare occupazione a queste 30 persone. Si può dire che in qualche modo in questo momento c'è la doppia beffa di Lactalis nei confronti di Genova, cioè prima manda a casa gli operai, manda a casa i lavoratori, chiude un marchio storico, cioè il marchio a dire il vero l'ha tenuto, però ok, e poi preferisce tenere l'insediamento vuoto al momento anche di fronte a una offerta, che non sappiamo appunto quanto sia, però un'offerta c'è. E questa è la cosa inspiegabile, poi è chiaro che non conoscendo i termini dell'offerta e è chiaro che poi tutto il resto fa parte delle suggestioni e delle ipotesi che possiamo fare qua io e lei, però su questo credo sia opportuno poi fare un approfondimento. Al momento... Non servirebbe però la domanda che faccio è, in un momento in cui ci sono, mi rifaccio anche al caso H&M, cioè se ci sono due realtà che si parlano, la proprietà è un'accordata, non sarebbe il caso di insediarsi in questa trattativa anche a livello di enti locali? Però vede, quando... Non è così impossibile, non è possibile. No, no, dovrebbe essere possibile, ma quando c'è una situazione difficile di crisi come quella che stiamo attraversando, così generalizzata, normalmente la parte più forte, quella che si sente, obiettivamente lo è dal punto di vista finanziario, più forte, talvolta può fare delle pressioni per avere non solo quello che gli spetta, ma magari qualcosa di più, mettendo, come dire, un cappio al collo a chi ha meno potere contratuale. In questa vicenda di Parmalat e dei suoi lavoratori, chi ha sicuramente meno potere contrattuale sono senz'altro i lavoratori, che poi sono le vere vittime di questa situazione, perché sono ancora in cassa integrazione, senza nessuna prospettiva ad oggi di ricollocazione immediata, e sono anche le imprese, perché si trattava di piccole, medie imprese, questo pool, che, come dire, in qualche modo ci hanno provato, almeno così ci è stato riferito, e però non ha potuto in qualche modo concretizzare la cosa. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore, noi chiediamo a questo pool di imprese di provarci ancora, magari non con Parmalat e non in quel sito, però se l'idea è buona, io credo che questa città possa offrire degli altri spazi per avviare, diciamo, un'attività per chi ha voglia di fare e per soprattutto dare lavoro a queste persone che da troppo tempo sono a piedi e sono le vere vittime di questa situazione. E naturalmente speriamo che questo auspicio trovi sbocco. Io ringrazio Luca Mastripieri, segretario regionale CISL Liguria, noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco ancora in diretta.